Hi everybody, this is Simone, no, eh, che cazzo. Eus, bienvenidos. Where there will be the National Championship of Craft Beer. Gli angeli scenderanno dal cielo. E metà da faccaccia provo. L'anetro, l'anetro. Il fungo porcino setemine a chi? Setemine? Sto lì, sto lì. Mi perdo il bridge, non me lo perdo più ma volete tutto insieme. Ok. Vengono proposte le degustazioni di piatti al tartufo. Sei textra virgen d'oliva. Ecco, c'ho sbagliato. Il locale. Ciao, 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 ciao. Let it in and get. Vabbè. Passiamo a... Libuta... Vado così? The best live web. Diventa più difficile così, eh? E non posso fare perché c'è della gente che passa. Devi aspettare perché si fermano e guardano. Se ne sono accorti. Devi assaggiare tutte queste prelibatezze. e guardano la luce. Ricomincio, vai, vai, vai. ManuelaItalianFoodNet.com. Guardavo la luce. We are going to the national... Va bene. Oicomo. Oicomo. Insomma, nella magnifica cornista. Da cavolo. Tutto a base, tutto a base, tutto a base. Ehm... Tipo il video delle gaffe, no? Anetropoli. E' Angeli e demoni. Angeli e demoni. No. Hi, I'm... No, hi, no. Dai che sono morite freddo. ItalianFoodNet.com. Stay tuned. IFN Web TV will take you... Will take you? I'm gonna go. Allora, mi ricordo più. Here we are, in a special place. Ah, dritto. From the most... Avevi so... Da capo.